Chuck si gira ragazzi buonasera bentornati sul nostro canale con una nuova challenge stasera facciamo un po' di roba assortita un po' di cioccolato, un po' di salato, un po' di dolce con questi due ragazzoni ragazzi siete pronti? allora ve la spiego un attimo mangeranno queste prelibatezze e dovranno dirmi la marca cosa semplice e tranquilla la marca ma che cos'è? si è la marca scusa se ti mangi qualcosa se mi sai dire cos'è gli ingredienti anche no gli ingredienti no iniziamo con una cosa molto tranquilla dai eccoci qua l'ho aperto di merda l'ho aperto di merda ragazzi lo volete a metà o? eh dipende magari dipende quando è grosso lo volete a metà qua si faccia un esempio è è un gioco di pomagliata no no ve lo potete mangiare no ve lo potete mangiare intere è molto piccolo allora vai giù aprite la bocca prima primo 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 ingrediente la so lo sneakers ma no aspetto un attimo il ragazzo gli basta ancora tu comunque la tua risposta è sneakers giusto il mio Mars piccolo Mars piccolo sei sicuro? si quindi non mi potete sbendare ma poi lo vedete in fase di cosa ma è il lo sneakers lo faccio vedere in cam è lo sneakers 1 a 0 per adesso 1 a 0 per adesso 1 a 0 per adesso è un po' difficile un po' difficile perché è una marca conosciuta però vi dico che tanto voi mi dovete dire una marca è una marca conosciuta però è un gusto molto particolare vi sto dicendo tutto non dovrei però vabbè allora prendiamo un po' che stiamo a fare un macello qua ecco ecco qua pronti? mhm prisa la bocca che le tifuà mmm mmm chissà tu di chi chissà? sì sì lo hacker concordo lo hacker col cocco mhm che li coscio? allora lo hacker a 3 a 3 che significa? quel pattentino di lo hacker sottile mhm che mhm sicuri? io lo ricordo lui ha detto lo hacker tu? lo hacker col cocco sì e ragazzi eccolo qua lo hacker a cocco hanno indovinato anche il gusto ragazzi vabbè il cocco non c'è è semplice da nominare però allora 2 a 1 2 a 1 2 a 1 giusto? ok 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 questo è il terzo questo è il terzo vi dite quando siete pronti? vai vai sicuro? eh siete pronti? dai dai eh togli le mani pronti? apri la bocca tion 2 ja non con più non cialion che cosa è? e uurgh bisogna k non è un po' il guanzolo che mi piace no no i bel i bel amore amico Gaius bastardo vabbè gai sono stato anche mani animo, potevo prenderci po' per gatti non l'ho preso vabbè vabbè ho capito allora qua mi dovete dire anche il gusto però te lo dico mi dovete dire anche il gusto cioè dobbiamo dirti che c'è dentro si a che gusto è questa cosa ok allora 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 ve lo faccio uguale ve lo faccio uguale perchè è giusto che sia così ve lo faccio uguale ve lo faccio uguale ve lo faccio uguale ma le hai mangiata lei tu le hai mangiata? non lo so aprite la bocca ma non lo so aprite la bocca questo è il cioccolato voglio lo sapere anche sicuro? si ma l'ho vista l'ho vista l'ho vista da staccarello eh no 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 non è chiaro allora io ho capito vai Ale secondo me il Kitagat ha delle pralline dentro perché questo è il Kitagat ha il almanino ma non lo saperebbe il Kitagat ha il almanino e il Kitagat ha il perno perno che sarebbe pure almanino Azzemut quindi ho detto Azzemut Ragazzi, Wesker va a 3 a 1 Mi dispiace ma ha ragione lui Erano alchide catta caramello Cioè quest'altro Non quest'altro Sì, pronti? Vai No, no, no No, no, è il cioccolato Cioccolato, apri la bocca Leva le mani Sì, è un po' E' un po' Ma è un po' Io non parlo perché non si pronuncia anche Emanuele No, è sbagliato Sì, è un bounty È un bounty La ragione Eh sì, il cocco Eh sì È un bounty Sposta definitiva? Sì, è un bounty Bounty? Yes Avete ragione tutti e due Quattro a due Eccoli qua Sei pronti? Vai Pronti? Sì Avete la bocca Mars Tutti e due? Sì Avete ragione tutti e due 5 a 3 5 a 3 5 a 3 Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Sei pronti? Vai Togliate le mani Togliate le mani Togliate le mani Vabbè Adesso non vi do Adesso non vi do Comune Vabbè 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 La miscarola La faccia con il salato Eh Allora Fra Non Vuoi riprovare Vuoi un'altra volta Vai Dai cosa faccio? Non ce l'ho Dai Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Che tu dico Ma noè Asper Vabbè però tu gli mani mi dava una risposta Deve finiti ma morì Allora io te la dico pure nell'oricchio Vai Io Gli mani te la dico Già me l'ha detto Si è indorato? Ve lo posso dire a tutte e due Avete ragione tutte e due Vani 6 a 4 Ragazzi siete pronti? Sto in il mani Sto in il mani Sto in il mani Sto in il mani Vabbè Bò 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 Ma è ficcantissimo! Ma è ficcantissimo! Ma è ficcantissimo! No, questo è un lungo, questo è un lungo! Ua, ma è un bel vetroneo! Ragazzi, gli giuro che sto per vomitare pure io, eh! Ua, ma non è bene di palma, non riesco a respirare Che schifo! Solo dallo due! Ormai invece resta un salato, capito? No, ragazzi, ve l'ho dito! Sono Wasabi Chips! Borbondi, piacevolmente piccanti! Secondo easter egg, ragazzi, ve lo meritavate, ve lo meritavate Comunque, siete sempre 6-4 Questo è un bel pacchetto, ragazzi Ora però vi farò un piccolo giochetto Cioè, gli danno uno a uno di un gusto E un altro, un altro di un gusto Così vediamo se il manovale può recuperare Pronti, raga? Sì, vai! Pronti? Aprite la bocca? Un gusto, mi devi dire Eh, mi spiace, non riesco a fregui la faccia, la sto vedendo, non riesco a fregui la faccia Sì, non riesco a fregui la faccia Un gusto, non riesco a fregui la faccia Un gusto, non riesco a fregui la faccia Certo Penso che sì e no, mi devi dare il nome giusto John Duy No Eh, no, non riesco a... Allora, non te la do una, è sbagliata per me, Dark Eh, poi ciò, quella con... Sì, ma non te la posso dare, dobbiamo... Eh, Dark, che inizia ci stai... Dai, dai, dobbiamo dare un po' di mano di qua, da... Kinder Bueno, classicamente Come? Kinder Bueno, classicamente Vabbè, io ti volevo dare una mano, tu sei un codione e ti sei fatto fare No, era il white Era... Era il white, vedi? Continuiamo, ragazzi, continuiamo Eh, muoviamo avanti, finché non indovinate Allora... Lo stanno facendo Siete pronti? Vai, Biancio, vai Aprile le bocche Guardate, viene a volo Mmm Mmm Ed è buono White, stavo qua Il me è classico Siete sicuri? Sì E stavolta avete nominato tutti e due Vai Ho dato il bianco a lui E il... Normale Classico a te Intenditori, ragazzi Avete nominato? Solo la prima vi siete un po'... Eh... Poi... Ragazzi, siete pronti per l'ultima sfida? Vai Ultima Sì Allora, allora, allora Aprite la bocca Aprite la bocca Aprite bene la bocca La bocca Abba la bocca La bocca E' un po' E' un po' Che polpa di me ne ammirti, non ti piace Non era buono? A me non piace Questa è buona coppa... Questa è buona coppa... Questa è buona coppa... Abbiamo finito? Diciamo che abbiamo finito, si Sbettatevi Ormai provo qualcosa Devo provare qualcosa anche io Eh si Facciamoci un po' noi a lui Non ce lo faccio mai, non te lo faccio mai Non te lo faccio mai, non te lo faccio mai E se volete provare qualcosa Facciamo una cosa a voi Una veloce e veloce Per non farci decidere Per non farci decidere Posso iniziare? Eh Allora C'è da dire che io non sono ferrato Nel senso che tutti questi buschi Ne conosco Ok C'è Non l'ho provato Bagliissimo insomma Allora Faccio io Lascio qua sburu tu Allora C'è già Ma No Devi fare l'uomo Ti preoccuparti Devi fare il gheo e gheo Un po' meno bastoso Suppongo Mi piace a me Qualcosa a canamello Che cos'è secondo ti? Il senso del marzo Bravo Indominato Un e zero Che la cosa? Tu stai rapendo le patane Tu sei la lode No 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 Un aggiraputo Il patane ha giudicato la roba Però è raputo il patane Non la patane la stai No Fra io vomito Non è la patane Fra io vomito Ok No tu stai facendo il patane Non metti la roba No Non è possibile Perché tu prendi su cucchiare Allora E tu non mangi più Allora E tu non mangi più E tu non mangi più Allora 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 Io non lo so Che cosa fai? Allora Stai già questo qui Allora Ma che stai facendo Allora Ti stai mettendo la pelle No Ma che stai scendendo Ma che è il patane? Ma che è il patane? Ah prima Ti posso capire La pelle è libera No No E la devo Ma però c'era un ghim Non lo com'azio Vai Vai Ma che rapo Vai 2-0 Ma quello che teni io Vai Vai un po' d'acqua Leggi un baracco a chi sta Tu hai fatto che io stavo che mi scudiai fatta Ale Tu scudono facce Lo dico davanti a tutti Lo dico davanti a tutti Oh Un po' che l'ha Come ho pulito Aspetta Ma lì Allora la cazzo La roba è molto Sì Faccio assaggiare Aspetta 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 Bu Sì Bu Scudono facci No Mi 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 guardi la Maria avete sputato, non era fatto non avevo sputato niente own me non ho sputato! ci ripeto! ok passiamo a gioco che sia il classico si è il classico ok siamo da un super pentolino per la bocca no che cazzo è figato? ma io sto figando a cation ma io rilassi, vieni qua, la bocca non ho visto niente tu non puoi guardare ah no? no fete, wasabi, è il tipo di no no, 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 è il tipo di no vieni a te come vieni a te? no, è il tipo di no vieni a te, è il tipo di wasabi tu hai giungolato, è il tipo di wasabi non è il tipo di no non c'è, non c'è vabbè, dobbiamo moccata così ma perché stai mangiando il patano tu? ma non stai niente ma ma la metto, ma la metto dopo, non so ehi, l'ultima ok, apri la bocca? no, è nata la tua cosa ehi, si senti si senti, si senti fra si sente ma perchè... no, no, allora io mi spendo no, però guarda, vuol dire, non mantiene una cosa diciamo, ma faccio mangiare una burina ma non è una patana però tu, mi raccoli solo una patana si senti, era una mani parola ma non è una cosa che passava e allora, faccio i miei, nel filo è una cosa è l'alpe lì, l'alpe lì beccosa no, che sei l'alpe lì beccosa no, l'alpe lì beccosa no, l'alpe lì beccosa no, ma ora... ma... ma chi è l'alpe lì beccosa? no, è lui no, c'è... però guarda... mi state guarda... vai dai, l'ultimo dai, l'agentà eh, vissi ma se sei succhiostato la combina no, no, non so bravo come stai grippando mi sputate l'alpe mi sputate l'alpe mi sputate l'alpe mi sputate l'alpe polla, polvere... apri la bocca eh, l'alpe 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 ma è la petrolio, no ma non è vero ma non è vero ma hai provato? ah, comunque è una sensazione molto strana fatti imboccare senza guardare in che senso? bravo, infatti Vabbè ragazzi, noi vi salutiamo, vi abbracciamo, lasciate Allora, vi riproponiamo la stessa sfida dell'altra volta L'altra volta facciamo la sfida Che sfida facciamo? Fatto del peperoncino Fatto del peperoncino, proviamo la roba americana, eccetera Siamo arrivati a un buon numero di visual Ma a livello di like e di iscrizioni Ora vi ripropongo quasi lo stesso obiettivo 50 iscritti ragazzi 50 iscritti con lo speciale anche 50 iscritti e 25 e 20 like 20 like e rifacciamo una sfida così Magari decidete voi, scrivete voi Non lo so, decidiamo noi Ma casomai facciamo anche dei competti Si è in grippa 12 Casomai vediamo anche di comprare dei competti O di cose del genere Vedete voi Quindi vi salutiamo, vi abbracciamo E con la pubblicità del Kinder Bueno classico Sempre andiamo sul classico Vi salutiamo, un abbraccio ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.